Il Carnevale è tradizione e senso di appartenenza alle proprie origini. In particolare il Carnevale Storico di Santià, a pochi chilometri da Vercelli nel Piemontese, è il Carnevale Storico d'Italia, che si perde nella notte dei tempi. Il Carnevale Storico di Santià, insegnito dal premio di rappresentanza medaglia del Presidente della Repubblica e dal patrocino del Ministero dei Beni, Attività Culturali e Turismo, è una manifestazione allegorica storica. Le origini del Carnevale più antico d'Italia si possono far risalire alla prima metà del 1300. I santianesi sentirono la necessità di trovare qualcosa di fortemente simbolico che vegliasse nei giorni di festa su tutta la popolazione e si pensò alla maschera ufficiale del Piemonte, cioè al famoso Gianduia. Qui si decise di costruire una statua di legno e gesso raffigurante Gianduia che da allora ogni anno, la domenica di Carnevale, viene issata dal governatore delle tradizioni dell'antica società fagiulesca su un tronetto al centro di Piazza Roma e da lì controlla ogni tradizionale momento dei fatidici tre giorni. Altro momento centrale della manifestazione è la sfilata dei carri allegorici e delle maschere per le vie di Santià. Fantasia, costumi originali, colori, il clima di festa del Carnevale a Santià diventa un evento spettacolare grazie alla partecipazione di oltre 2000 figuranti che accompagnano carri di imponenti dimensioni nei tre appuntamenti domenica pomeriggio, lunedì sera e martedì pomeriggio. Tre sono le categorie che si sfidano per aggiudicarsi il gagliardetto del primo premio. Così suddivise carri di prima categoria, carri di seconda categoria, maschere a piedi. Il Carnevale di Santià è composto anche da un evento dalle emissioni colossali. Circa 150 grandi caldaie di rame, oltre 20.000 razioni distribuite gratuitamente a tutta la popolazione, oltre 300 addetti che si occupano di tutte le fasi della manifestazione, suddivise in 32 gruppi. Sono questi i numeri di un evento tipico e allo stesso tempo grandioso, come la colossata fagiolata che caratterizza sin dai tempi più remoti il Carnevale di Santià. Il giorno stabilito per la manifestazione è il lunedì grasso e comincia con le sveglie, suonato dal corpo pifere e tambure, per dare inizio alle operazioni di preparazione dell'evento. E anche noi pronti a sfilare nel fantastico corteo del Carnevale di Santià per TG Evans, Andrea Evans.